Ok, due note di servizio. Da prima è che stiamo registrando gli interventi, stiamo registrando questa sessione. Se si riesce già oggi o al massimo lunedì, la troverete a disposizione la pagina del sito internet dell'ente dedicata ai progetti integrati. L'altra cosa che volevo dirgli è che comunque è collegato il vice sindaco metropolitano fresco di qualche giorno, Jacopo Suppo, che quindi sta seguendo i lavori insieme a noi. Buongiorno a tutti. Vado... mi sentite? Filippo? Sì, sì. Perfetto. Allora, vado subito all'esposizione, posto che abbiamo veramente poco tempo. La misura a cui noi facciamo riferimento è la misura M5C2 nell'ambito del PNRR, in particolare a quella che è la voce relativa ai progetti di rigenerazione urbana, che poi ha trovato attuazione nell'articolo 21 del decreto legge 152 del 2021, che ormai tutti conoscete, e a cui si è aggiunto come ulteriore riferimento normativo il decreto del Ministero dell'Interno del 6-12 del 2021, che sostanzialmente precisa quello che è il quadro di riferimento per quanto attiene l'oggetto dei progetti di rigenerazione urbana, e in secondo luogo precisa quelli che sono alcuni elementi di cui devono essere corredati i cosiddetti interventi materiali o aid immateriali, a cui fa riferimento l'articolo 21. In sostanza questo è il primo elemento da chiarire sul piano normativo, che è utile che tutti abbiate ben chiaro. L'articolo 21 sostanzialmente contempla i progetti di rigenerazione urbana e prescrive espressamente che ogni progetto di rigenerazione urbana deve avere un importo minimo di 50 milioni di euro. Il progetto complessivo di rigenerazione urbana si articola in una serie di interventi materiali ed immateriali che si sostanziano in investimenti, gli interventi materiali, quindi parliamo di opere, infrastrutture e quant'altro, e in interventi immateriali, e cioè una serie di attività, servizi sostanzialmente, che possono articolarsi in attività di coprogettazione con il terzo settore, ad esempio, quindi facciamo riferimento a tutta la disciplina degli articoli 55 e seguenti del 117 del 2017, cioè il codice del terzo settore, oppure interventi di spin-on per start-up, quindi avvio di attività di impresa innovativa o quant'altro sul territorio. Quindi queste sono sostanzialmente le indicazioni che ci fornisce il decreto. E' chiaro che, oltre alla coprogettazione, è possibile, nell'ambito del perimetro degli interventi materiali, anche a rapporti di natura contrattuale, ascrivibili al codice degli appalti, quindi veri e propri contratti di servizio che accompagnano o che corredano quello che è il complesso progetto di rigenerazione urbana. Quindi sostanzialmente le voci sono interventi materiali, investimenti, interventi immateriali che attengono viceversa a questi servizi, che poi possono essere appalti di servizi o attività in comprogettazione con il terzo settore, 55 e seguenti del 117 del 2017, oppure start-up. Il decreto, quindi, investe quelli che sono progetti dedicati tendenzialmente alla rigenerazione urbana delle periferie delle città metropolitane, e non all'altra. Prego, dimmi. Scusa se ti interrompo, perché il sindaco si è liberato. Ok, perfetto. Riprendiamo dopo, grazie. Diamo la parola al sindaco Stefano Russo. Buongiorno, non so se mi sentite. Spero di sì. Perfetto. Allora, grazie a tutti e a tutte. Scusate del ritardo. Sono collegato, ma avevo una giunta sull'Eurovision un po' complicata. Allora, io volevo solo fare, innanzitutto, presentarmi, perché questa è la prima volta in cui, con molti amministratori locali, ho occasione di potermi confrontare, anche se in una modalità telematica e in una condizione logistica complicata, complicata certamente dalla pandemia Covid, io spero davvero che si possa quanto prima arrivare a una dinamica di relazione in presenza. E come ho avuto modo di dire il giorno dell'insediamento sarà questa un po' la cifra che vorrò utilizzare nei prossimi anni nella guida della città metropolitana, insieme alla squadra di consiglieri delegati che abbiamo in qualche modo costituito e in generale rispetto a tutto il consiglio metropolitano che si è costituito e che si è insediato proprio pochi giorni fa. Come ho avuto modo di dire in quella sede si apre una stagione importante per quello che riguarda la città metropolitana, una stagione importante che riguarda il nostro territorio e che vede nell'ambito di una rinnovata relazione tra il Comune Capoluogo e i territori più lontani dal Comune Capoluogo, almeno questo è il mio auspicio, una modalità ordinaria di relazione e soprattutto una modalità ordinaria di collaborazione. Sappiamo bene che la città metropolitana ha una dinamica di gestione operativa dell'organo di governo politico, che è una dinamica che è figlia di una legge che è certamente almeno per la parte relativa all'elezione di chi vi parla, è stata dichiarata incostituzionale, quindi sicuramente io condivido questa cosa, l'ho avuto modo di dire, credo che sia molto complicato per un cittadino che vive in un Comune della città metropolitana che non sia Torino anche accettare politicamente il fatto che il Sindaco sia il Sindaco del Capoluogo. Questo elemento mi responsabilizza maggiormente relativamente a questa impostazione nel cercare laddove possibile il maggior grado di condivisione possibile, sia per quello che riguarda le linee strategiche che metteremo in campo nei prossimi anni, sia ovviamente per quello che riguarda la modalità ordinaria di relazione che avremo tra Comune e Capoluogo e Comuni, Unione di Comuni e Comunità Montane. Io ci tenevo e ringrazio davvero sia il Dottor Dani che il Dottor Bignone del lavoro che hanno fatto nelle vacanze di Natale, proprio anzi già partendo prima della elezione del Consiglio metropolitano che è avvenuta il 19 di dicembre e poi nei giorni immediatamente successivi, in ordine alla complessa fase di elaborazione delle attuazioni del decreto di cui stiamo discutendo e di cui credo il Dottor Bignone stava introducendo i parametri generali e fondamentalmente dell'assegnazione che il Governo ha fatto alle città metropolitane. Per la prima volta è capitata una cosa strana e cioè che le risorse sono state assegnate direttamente a un ente locale senza modalità competitiva, senza un bando. Il PNRR ha una modalità di attuazione che fondamentalmente vede due macrosoggetti che sono i beneficiari diretti delle risorse, i ministeri che fanno la parte preponderante e le regioni, però io saluto con grande interesse, grande sostegno il fatto che in questo caso il nostro Governo ha voluto considerare le città metropolitane come soggetti beneficiari direttamente di risorse sulla missione 5. Questo non era affatto scontato e lo ritengo un grandissimo risultato che è stato raggiunto dall'Anci che più di altri, meglio di altri, ha rappresentato l'esigenza di avere la possibilità di avere queste risorse e secondo me questo è un elemento che vorrei sottolineare. Risorse che sono ovviamente, non sono certamente tutte le risorse del PNRR, sono le risorse della missione 5 che riguarda il tema dell'inclusione sociale e che ovviamente andranno a completare il quadro di risorse economiche che finanziamenti ordinari e PNRR scaricheranno sul città metropolitana a valere su diverse operazioni, sicuramente questa di cui discutiamo questa mattina ma certamente anche altre, questa è la ragione per cui io il 14 di dicembre proprio nella sala riunioni della città metropolitana di Corso Inghilterra o insieme al Presidente Cirio dato vita alla cosiddetta cabina di regia sul PNRR che abbiamo non a caso chiamato Together perché qua il gioco del nostro paese, del nostro territorio è quello di lavorare insieme e dirò cosa intendo tra poco. Credo che la dinamica che ci siamo dati istituzionalmente è peraltro cosa unica in Italia come autorità locali di governo del territorio è stata proprio quella di fare in un unico tavolo un po' massa critica e sistema rispetto a quello che era la mole di risorse del PNRR che sono importanti, di svariati miliardi che arriveranno sul territorio della regione Piemonte e sul territorio della città metropolitana di Torino. Dentro questo quadro piuttosto complesso che vede ovviamente protagonisti certamente i ministeri direttamente che allocheranno le risorse attraverso bandi o attraverso assegnazioni dirette. Penso ad esempio a tutto il tema relativamente se non sbaglio alla missione 2 che riguarda il trasporto pubblico locale, la scelta dei ministri lì è stata quella di attivare procedure abbastanza simili a quelle per cui il Ministero dell'Interno ha attivato questi fondi di cui discutiamo oggi cioè assegnazioni dirette alle città metropolitane. Altre fondi arriveranno attraverso meccanismi competitivi cui i comuni a seconda della soglia saranno chiamati, altri saranno esclusi, alcune missioni saranno dedicate e queste risorse vanno a mio modo di vedere ed è questa la razza della cabina di regia messa a sistema con quella che è la programmazione ordinaria dei fondi europei che come è noto nel nostro territorio è gestita peraltro non solo nel nostro ma in generale in tutti i territori dall'autorità regionale. Su questo c'è stata diciamo immediata la sintonia con il Presidente Cirio e quindi questo ha consentito la costruzione di questa cabina di regia dei soggetti attuatori pubblici del PNRR cioè città di Torino, città metropolitana di Torino, Regione Piemonte e abbiamo aggiunto l'Università degli Studi di Torino e il Politenico di Torino come soggetti beneficiari ovviamente su linee di finanziamento. Altre rispetto a quelle di cui discutiamo che sono quelle del MUR e quelle del Ministero della Transizione Ecologica che sono per il nostro territorio svariate centinaia di milioni di euro che ovviamente saranno gestite direttamente in quei casi dalle università ma che ovviamente atterrando sul nostro territorio è bene che vengano messe a sistema con tutte le altre risorse. L'oggetto della discussione per cui oggi è stata in qualche modo convocata questo webinar diciamo così di spiegazione attiene ai fondi PNRR della missione 5 che sono stati assegnati come vi dicevo con il decreto legge 152 del 2021 direttamente alla città metropolitana. La città metropolitana di Torino ha quindi come dire ricevuto come le altre 13 città metropolitane questi fondi su questa missione dal Ministro dell'Interno e li ha ricevuti nel pieno della convocazione delle elezioni del Consiglio metropolitano e nell'immediata successiva fase di ragionamento che è coinciso troppo incidentalmente con il periodo di pausa natalizia e l'esplosione della pandemia di Omicron diciamo così ha fatto lavorare e ci tengo anche davanti a tutti voi esprimere un mio ringraziamento sia al Direttore Generale che al Segretario Generale perché posso garantirvi che la interpretazione e la declinazione locale di questo decreto sono state un'operazione molto complicata da definire. Quali scelte ho ritenuto di fare in una fase in cui come dire occorreva correre molto e il correre molto non è legato a una scelta autonoma di città metropolitana e legata a dei tempi assolutamente fuori scala che sono quelli che sono stati imposti alle città metropolitane. Questo decreto legge convertito in legge assegna obiettivi piuttosto specifici all'impiego di queste risorse dando una cornice di interventi ammissibili molto stretta prima cosa che fa, seconda cosa che fa stabilisce una soglia dimensionale del singolo progetto del programma di non meno di 50 milioni e terza cosa che fa mette una red line che è quasi al limite dell'impossibile che è il 16 di marzo e peraltro mette il 16 di marzo dopo una pesante trattativa che è stata messa in campo dal Presidente De Caro per avere una proroga, questa proroga è stata gentilmente concessa di una settimana. Ora queste somme sono state allocate a città metropolitana ovviamente con questi tempi, con queste modalità perché in realtà questo decreto è stato pensato non tanto per le peculiarità della città di Torino che come noto è la città metropolitana che ha il territorio più grande d'Italia e la città metropolitana che ha la numerosità di comuni più elevata d'Italia ed è da questo punto di vista molto diversa dalle dimensioni di Roma, di Milano, di Bologna o delle altre città metropolitane. Sia la soglia dimensionale dei progetti 50 milioni che i tempi ovviamente erano erano pensati sono stati pensati fondamentalmente per i comuni capoluogo o diciamo così per la per la conurbazione. Questo è evidente leggendo il dettato normativo e basta leggere la norma per comprendere questa cosa. Allora io mi sono trovato in una condizione complessa che era quella di come declinare questa dimensione che era una dimensione di vincolo di legge vincolo temporale vincolo di impiego in una realtà che come dire per le cose che ben sappiamo è decisamente differente che quella della nostra città metropolitana. Questa riflessione che è stata una riflessione come dire operativa ha portato alla costruzione di una uno schema di impiego di queste risorse. Il primo ragionamento che è stato fatto è stato quello di ribaltare il meccanismo di impiego di queste risorse sui comuni esattamente per come era arrivato dallo Stato e cioè evitare anche perché detto tra di noi francamente sarebbe stato praticamente impossibile eh dal punto di vista tecnico eh gestirla diversamente eh evitare la costituzione di un formale bando di assegnazione di queste risorse. Il principio è stato quello per cui il governo centrale per una volta si è fidato e si fida delle amministrazioni locali, si fida della città metropolitana, la città metropolitana fa lo stesso con i comuni e con le unioni di comuni. Eh questo è stato una scelta politica, avremmo potuto prenderne altre, avremmo potuto individuare l'assegnazione attraverso criteri competitivi, punteggi, pesi e tutta una serie di altre cose a cui tipicamente siamo tutti abituati eh come comuni ma uno credo che per una volta proviamo a fare la scommessa di lavorare veramente uniti e tutti insieme nell'ottica del bene comune della città metropolitana. Due, i tempi che avrebbe comportato l'emanazione di un bando di accesso a queste risorse per la complessità e per i vincoli imposti dallo Stato sarebbero stati oggettivamente impossibili da sviluppare e quello che sarebbe capitato che è quello su cui io invece come dire sono assolutamente indisponibile è che città metropolitana questi soldi diciamo così li deve restituire, li debba restituire per il mancato impiego. Noi non ci possiamo permettere di restituire allo Stato neanche un euro di questi 233 milioni. La seconda riflessione che eh in questo senso mi ha eh condotto alla produzione di questo decreto è che eh è stata quella di premiare e valorizzare i comuni. Ora le risorse come vi dicevo prima non sono state assegnate alla città metropolitana per essere distribuite ai comuni. Le risorse sono state assegnate alla città metropolitana per la città metropolitana che come noto ha un programma di investimenti proprio su immobili propri su situazioni proprie che oggettivamente era la cosa e la strada più facile da percorrere e cioè quella di un impiego diretto nel piano economico finanziario dell'attività della città metropolitana su iniziative di città metropolitana. Seconda scelta politica molto più rischiosa dal punto di vista dei tempi e sono c'è e comunque anche molto più rischiosa dal punto di vista politico quella di fare una scommessa sui nostri comuni, sulle nostre autorità comunali, sulle nostre unioni di comuni e su in qualche modo la nostra capacità territoriale di metterci insieme. Questo ha prodotto il meccanismo di riparto delle risorse che trovate nel decreto che sostanzialmente viene attribuito in termini di elaborazione e di proposta ai comuni in luogo della città metropolitana. Ovviamente nel decreto troverete una clausola di salvaguardia che qualora le risorse e la progettualità non sia completa nei tempi previsti che sono strettissimi, città metropolitana si riserva di utilizzare quelle risorse per i propri progetti, ma è una parte residuale che arriva a valle e non a monte. Terza componente il riparto di risorse nei comuni. Voi sapete che l'applicazione brutale dell'IVSM contenuto dentro il decreto avrebbe portato a una sostanziale drenaggio, che peraltro era la ragione per cui era stato pensato così, un sostanziale drenaggio della stragrande maggioranza delle risorse da parte della città di Torino e di una residuale possibilità di accesso a queste risorse da parte di quei comuni che avevano contemporaneamente due caratteristiche, essere con un'IVSM superiore alla mediana della città metropolitana con la città di Torino dentro e essere capaci di fare progetti da 50 milioni di euro. La scelta ovviamente supportata dall'interlocuzione che c'è stata con il Ministero degli Interni da parte mia e degli uffici è stata quella di sfilare dal calcolo della mediana la città di Torino perché questa cosa qua avrebbe portato una, a mio modo di vedere, e lo dico da sindaco di Torino, quindi ho fatto un'operazione conscio dell'effetto economico indotto di minore entrata per l'ente comune di Torino e anticipo di più difficile accesso alle risorse di tutti quei comuni che erano nelle condizioni di Torino e cioè con un IVSM sopra il 98, abbiamo sfilato la città di Torino. Questo ovviamente è compatibile dal punto di vista normativo e le interlocuzioni hanno consentito quindi di un ricalcolo della mediana dell'IVSM e di un successivo riparto dell'IVSM consentendo terza scelta politica a tutti i comuni di poter partecipare a questa operazione e cioè a identificare i 311 comuni eccetto la città di Torino in due macro categorie, un elenco uno che sono i comuni che a valle dello sfilaggio del comune di Torino hanno un IVSM superiore alla soglia stabilita e ricalcolata nell'IVSM che trovate nella parte dell'allegato che è 97.61 i quali possono accedere direttamente dentro questa soglia, ovviamente ci sono i comuni che avrebbero avuto modo di accedere lo stesso qualora la soglia fosse rimasta a 98 più una serie di altri comuni e tutti gli altri comuni e ovviamente però e questo è il massimo possibile per poter accedere a queste somme devono consorziarsi tra di loro attraverso una modalità e questa è stabilita la legge non la stabilita il sindaco Lorusso che vede la mediana comunque superiore a quel 97 che il calcolo di VSM è ricalcolato senza contare la città di Torino. Questo elemento ha poi consentito di ripartire le risorse sulle due linee di finanziamento linea A per la città di Torino, linea B per tutto il resto della città metropolitana che come potete vedere in realtà fa l'operazione diciamo così antitetica agli interessi di chi vi parla nella qualità di sindaco di Torino perché se io avessimo voluto applicare il decreto brutalmente quelle somme non non chiudevano con il 49 per cento a Torino e il 50 passa per cento il 51 per cento fuori ma se non ricordo male poi mi correggeranno segretario direttore generale veniva tipo un 64 a 35 con il 64 sulla città di Torino questo prego esatto 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 quindi da questo punto di vista le scelte politiche che chi vi parla ha fatto nell'ambito di questa cornice normativa sono state uno dare priorità agli interventi dei comuni rispetto agli interventi diretti di città metropolitana ribadisco con la clausola di salvaguardia che qualora interventi dei comuni compreso il mio non saturino la capienza di 233 milioni io non mi posso permettere come sindaco metropolitano di usare i 200 milioni e quindi metteremo i progetti di città metropolitana e lo trovate nel decreto due di sfilare dal calcolo dell'Ivsm la città di Torino che avrebbe provocato come confermava il segretario generale dei 233 milioni oltre il 64 per cento finiva Torino quindi sostanzialmente questa cosa qua avrebbe asciugato completamente le risorse per tutto il resto della città metropolitana attenzione nel pieno rispetto della norma anzi l'applicazione brutale della norma aveva prodotto quella roba lì e quindi abbiamo e su mia indicazione il segretario e il direttore hanno lavorato per cercare di trovare una quadra che fosse nell'ottica di potenzialmente consentire un maggiore impiego dell'intera città metropolitana voi sapete la mia opinione io sono convinto che questo territorio riparte se riparte l'intera città metropolitana e lo dico contro i miei interessi di sindaco di Torino lo dico contro se vogliamo diciamo così una parte anche di sindaci credo che si sono giustamente per certi aspetti legittimamente lamentati di questa scelta ma la scelta l'ho assunta per questa per questa ragione terza terza variabile ovviamente ultima che è quella di facilitare il compito ai comuni individuando una soglia che non poteva essere 50 milioni perché non siamo non vivo sulla luna e so bene che a chiedere ai comuni di presentare progetti da 50 milioni diventa fondamentalmente rendere la vita un inferno e rende questa cosa qua impossibile e conseguentemente abbiamo cercato di venire incontro ai comuni individuando un meccanismo che competerà che complicherà molto l'elaborazione del progetto successivo che è quello di individuare unità sistemiche più piccole che sono quelle da 5 milioni questo elemento di scelta che ribadisco è stata un'altra scelta serve a consentire come dire di lasciatemi dire di non spaventarsi e di metterci di siguzzo buono per cercare di arrivare al risultato città metropolitana a valle della fase di eh interlocuzione che avverrà a valle della presentazione del 26 di gennaio da parte delle preproposte dovrà fare una cosa che spero che a questo punto sia un po' più chiara complicatissima che è quella di mettere cosa arriva dai territori dentro un unico progetto di taglio minimo 50 milioni capite benissimo che questa operazione qui se è agevole per un comune come Torino è molto complicata quando io parlo con centinaia di comuni che hanno ambiti territoriali ambiti sociali completamente diversi e che per tante ragioni in molti casi non non si sono tutti ci stiamo trovando tutti per la prima volta a ragionare in quest'ottica allora io lo sforzo che chiedo davvero di fare che innanzitutto abbiamo fatto noi politico ed economico come città di Torino che abbiamo fatto noi come città metropolitana nell'individuare una modalità di potenziale accesso molto più larga rispetto alla previsione normativa e di fare in modo che questa scommessa politica che io personalmente ho voluto giocare che era quella di lavorare nell'ottica insieme ai comuni sia una scommessa che riusciamo a vincere per vincere questa scommessa la cosa che chiedo davvero alle amministrazioni locali è di lavorare seriamente all'integrazione dei progetti ho bisogno ho bisogno che mi aiutiate a arrivare il più possibile vicino alla soglia dimensionale integrata dei 50 milioni cioè traduco la cosa che noi come territorio questo non guarda al colore politico non guarda al territorio noi quello che dobbiamo fare nelle prossime settimane è cercare di aiutare città metropolitana a rispettare i parametri di legge perché questo possa essere possibile bisogna che ci sia un processo territoriale spontaneo e autonomo che sgrossi il lavoro di unione delle progettualità e di presentazione unitaria che consenta quindi a città metropolitana in un tempo che sarà che richiederà le notti per lavorare di integrare che cosa arriverà dalla città metropolitana dai comuni della città metropolitana in un unico progetto o almeno in due progetti da 50 milioni che saranno quelli che trasmetterò al ministro degli interni al 16 di marzo senza la collaborazione io non ce la faccio cioè noi non ce la facciamo come città metropolitana se noi non abbiamo un processo collaborativo territoriale che ovviamente è nel decreto lasciato completamente libero non c'è nessun vincolo abbiamo ragionato se mettere vincoli territoriali abbiamo ragionato come gestire i cup abbiamo ragionato se mettere delle soglie interdimensionali no la scelta politica è stata quella di aiutare i territori a poter partecipare a questo processo però io se non ho da parte di tutti questo aiuto noi come città metropolitana non ce la faremo non ce la faremo quindi l'auspicio mio è che davvero questo che come dire è anche diciamo così forse la prima volta in cui la città metropolitana si trova a dover dare concretezza e operatività a un'impostazione che è quella che è sempre stata seguita in questi anni di fondamentalmente facilitazione di processi aggregativi dobbiamo dare concretezza e dimostrare al ministero al governo che la città metropolitana di torino nonostante le condizioni proibitive che guardate sono non ho problemi a dirlo lo dico pubblicamente sono una follia una rivoltella piantata alla tempia noi comunque a torino siamo in grado di farlo questo lo dico perché su questo terreno verremo misurati anche per ulteriori successive fasi di erogazione di risorse aggiungo che sono convinto che se noi saremo bravi come città metropolitana a fare questo lavoro io non escludo che potremmo anche essere in qualche modo beneficiari di ulteriori risorse perché avremmo dimostrato una cosa complicata nella pubblica amministrazione italiana e che la pubblica amministrazione riesce a essere efficiente ed efficace quindi io ed è la ragione per cui ci tenevo a esserci oggi qui a introdurre questo concetto e anche a spiegare la razza di questa cosa mi sono trovato nella difficoltà incredibile di dover fare prendere delle decisioni e sacrificare un momento di discussione informazione comunicazione rispetto a quello che sarebbe che sarebbe che come sappiamo bene chi fa politica e soprattutto io ritengo fondamentale rispetto alla sfida che abbiamo e la sfida che abbiamo come città metropolitana è quella di non sprecare neanche un euro allora io la richiesta che faccio davvero a tutti voi è di aiuto alla città metropolitana di aiuto agli uffici la sfida che hanno il direttore generale segretario generale è una sfida complicatissima che è quella di dare assistenza ai comuni aiutare i processi di aggregazione e a un certo punto rendere unitario quello che arriverà e per fare questa operazione di rendere unitario quello che arriverà occorrerà avremo due settimane che è niente vi prego davvero di aiutarci da questo punto di vista di riuscire spontaneamente sui territori in questo senso i consiglieri metropolitani le aree omogene possono essere dei punti di riferimento è una sfida importante anzi è una delle più importanti del nostro territorio ma io sono convinto e voglio fare la scommessa che la città metropolitana di Torino i comuni della città metropolitana di Torino insieme possono raggiungere questo obiettivo questo è sostanzialmente il quadro politico istituzionale che c'è io questa cosa la penso possa essere fatta deve essere fatta i paletti di che cosa possiamo finanziare con queste risorse li stabilisce il decreto di come dobbiamo come città metropolitana presentare i progetti al ministro degli interni li stabilisce il decreto aiutate a costruire questa soglia dimensionale e di contenuto da 50 milioni la città metropolitana dando il vostro contributo nell'aggregarvi già tra di voi perché se non facciamo questa operazione qui il rischio enorme è di perdere queste risorse io purtroppo la numerosità sono contento che siamo svariate centinaia collegati la numerosità della nostra partecipazione non consente di poter aprire un dibattito sarà collegato resta collegato il vice sindaco Jacopo Suppo per quello che riguarda la discussione che avverrà ringrazio il direttore generale il dottor Dani e il segretario generale dottor Bignone per aver come dire lavorato testa bassa anche i giorni di Natale di Santo Stefano Capodanno per arrivare a questo risultato adesso tocca ai comuni e i comuni devono fare eh la loro la loro parte ma io sono convinto che se lo faremo tutti insieme avremo eh come dire fatto un buon servizio per il nostro eh per il nostro territorio per il nostro territorio metropolitano eh grazie davvero a tutti gli uffici ovviamente restano per i chiarimenti procedurali ce ne saranno tanti cerchiamo di eh davvero ehm fare in modo che questa fase che si apre oggi possa essere una fase eh di eh di rilancio e utilizziamo queste risorse per quello che sono state destinate cioè la missione cinque ne utilizzeremo altre di altre missioni per fare altro ma come sapete bene io credo che il tema della rigenerazione urbana della ricucitura sociale sia uno dei grandi temi delle grandi questioni poi avremo altre risorse del PNRR per la competitività per il turismo per le infrastrutture per tutte le altre cose bene che ci siano e la cabina di regia che abbiamo istituito serve a quello questi servono a questa roba qua quindi usiamoli usiamoli bene cerchiamo di farlo insieme cerchiamo di aiutare la città metropolitana in questa sfida improba che ha che mettere insieme un territorio vasto avrebbe avremmo avuto ne sono consapevole molta più facilità a fare le cose che vi dicevo prima e cioè a usare progetti diretti di città metropolitana o ad applicare brutalmente il decreto è una scommessa politica è una scommessa su cui io ci ho messo la faccia ce la metto volentieri va nell'ottica di quello che penso io debba essere città metropolitana c'è un luogo di discussione e di area vasta l'ho fatto nella scelta delle persone delle donne degli uomini che mi affiancano nella rappresentazione del governo della città metropolitana l'ho fatto adesso lo voglio fare per i prossimi anni per poter farlo però noi dobbiamo azzeccare le scelte e essere come dire coerenti essere capaci di mettere a terra queste questioni e la grande sfida che abbiamo come sindaci e come amministrazioni io credo che se lo faremo con questo spirito Torino farà davvero una bella figura nazionale e questa bella figura nazionale potrà davvero rappresentare un modello erogativo delle risorse statali PNRR o non solo PNRR anche anche per il futuro quindi grazie davvero a tutte e a tutti lascio ovviamente la riunione lascio eh al dottor eh Bignone e al direttore generale eh la conduzione della 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 mattinata e eh il il vice sindaco suppo che eh presiderà presiderà politicamente da al posto in eh al posto mio questa la discussione che maturerà grazie davvero a tutte e a tutti Filippo va bene allora puoi ripartire sì allora eh riprendo da dove avevo dove era arrivato allora eh per riprendere un attimo il filo del discorso eh richiamo per l'appunto i termini della misura che è la M5C2 e in particolare i progetti di rigenerazione romana che eh hanno poi trovato attuazione nell'articolo 21 del decreto legge 152 del 2021 e la convertito poi proprio a fine anno eh in particolare la legge di conversione la 233 proprio pubblicata il 31 dicembre del 2021 con delle modifiche non irrilevanti rispetto a quello che era il quadro di riferimento iniziale eh il nelle slide vedete quali sono i temi gli obiettivi del del dei progetti di rigenerazione urbana che come vi avevo già accennato in precedenza eh richiedono un quadro economico non inferiore prescrive il decreto eh di 50 milioni di euro eh quindi riprendendo quello che diceva per l'appunto il sindaco lorusso eh i progetti hanno come obiettivo la rigenerazione urbana e i territori vulnerabili eh al fine di realizzare città intelligenti sostenibili e limitando il consumo del suolo recuperare spazi urbani e aree esistenti allo scopo di migliorare la qualità della vita e promuovendo processi di partecipazione sociale e imprenditoriale il decreto già prevede queste eh declinazioni dei progetti il decreto legge dico eh ed è ancora più chiaramente espresso quelle che sono le attività che possono essere oggetto di finanziamento nel decreto ministeriale eh in particolare quello del dicembre del 6 dicembre del 2012 che riprendendo per l'appunto il decreto legge poi precisa che possono essere oggetto degli interventi materiali o di materiali la manutenzione del riuso la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle aree pubbliche delle strutture edilizie pubbliche e private esistenti quindi ecco un primo elemento di novità rispetto alla versione originaria del decreto e al decreto ministeriale che ovviamente è rimasto così come era stato pubblicato il 6 di dicembre e che alle strutture edilizie pubbliche si è aggiunto anche la possibilità degli interventi su strutture edilizie private e qui faccio un inciso in modo da eh già fissare uno dei parametri che sono contenuti nel eh articolo ventuno sono ammessibili nell'ambito del progetto di rigenerazione urbana anche gli interventi materiali eh eh a cura di soggetti e con il concorso di soggetti privati il il tuttavia ci sta un limite eh che è dato in primis dal fatto che il soggetto privato eh può partecipare al progetto di rigenerazione urbana nella misura massima del 25% del quadro economico complessivo del progetto eh questo vincolo è prescritto espressamente dal decreto legge ed è confermato del resto dalle facche del ministero dell'interno eh ed è un vincolo che non possiamo superare eh evidentemente il concorso da parte del privato potrà evidentemente avvenire nella misura del 25% avvalere su fondi non quelli della misura principale ma nell'ambito di quelli che sono i fondi bei che sono disciplinati dal eh dall'articolo 8 del medesimo articolo ventuno del medesimo decreto legge 152 del 2021 che sono fondi eh all'atere rispetto alla misura specifica e che sono comunque ammissibili ripeto nella nel limite del 25% come vi diranno poi nel proseguo del del webinar il eh eh quadro economico è uno degli elementi complessivo del progetto di rigenerazione urbana è uno degli elementi che viene richiesto a corredo del progetto unitario eh proprio perché eh bisogna eh assicurare il qualora ci siano per l'appunto interventi da parte di privati oppure eh operazioni eh interventi interventi immateriali quindi la coprogettazione di cui vi facevo in precedenza o appalti di servizi o eh iniziative di start up il rispetto dei vincoli fissati dal dal decreto ministeriale e soprattutto chiariti anche dalle facche del ministero dell'interno quindi il vincolo del dieci per cento per quanto riguarda gli interventi materiali rispetto al quadro economico complessivo del progetto di rigenerazione urbana e il vincolo del venticinque per cento per quanto tiene la partecipazione da parte di privati ehm come elementi proprio dimostrativi eh che poi saranno oggetto di valutazione eh da parte del ministero perché è bene ricordarlo che la città metropolitana individua eh così dice il decreto i progetti ma eh successivamente deve dimostrare al ministero poi sarà il ministero a valutare non soltanto i singoli progetti eh in termini proprio di ammissibilità rispetto ai requisiti espressamente prescritti dall'articolo ventuno ma soprattutto anche in termini sotto il profilo delle modalità di selezione dei progetti stessi ed ecco anche il meccanismo eh procedurale per scelto che consente per l'appunto di dimostrare eh il processo di valutazione e il processo di individuazione e poi in ultima analisi ed è qua ehm mi preme eh sottolineare l'aspetto la organicità del progetto cioè ciò che diceva il sindaco russo in precedenza è un aspetto molto importante eh il tema è che eh il progetto di rigenerazione urbana è eh un progetto unitario che deve espressamente come dice lo stesso articolo ventuno del eh cento cinquantadue del duemila eh ventuno deve espressamente individuare quello che è il target obiettivo del progetto nel suo complesso di conseguenza anche il ministero dell'interno in sede di ehm chiarimenti attraverso le proprie fac ha evidenziato e ha evidenziato che il mh l'aspetto su cui verterà la valutazione da parte del eh ministero sarà l'organicità la coerenza interna del progetto benché composto di moltiplici interventi materiali o immateriali quindi questo significa che non potrà essere eh ammesso o individuato un progetto che sia del tutto disorganico cioè che a macchia di Leopardo contempli la realizzazione eh di eh interventi cioè di investimenti eh su diversi territori ma che non hanno tra di sé tra loro alcuna connessione logica rispetto a quello che è l'obiettivo della rigenerazione urbana questo è un aspetto su cui eh raccomando la massima attenzione proprio perché sarà un elemento di valutazione sia da parte nostra che ob tortocollo dobbiamo procedere a questo eh processo di eh rilegatura degli interventi e di eh individuazione dei progetti ma soprattutto ed è qua ecco perché dico è necessaria la massima attenzione sarà oggetto di valutazione dalla parte del ministero cioè non potranno essere individuati i progetti del tutto disorganici e a macchia di Leopardo ma dovranno avere una loro coerenza interna quindi c'è un progetto di cinquanta milioni di euro potrà si contemplare eh interventi in misura non inferiore ai cinque milioni di euro ogni intervento materiale o eh intervento immateriale non potrà avere un importo inferiore ai cinque milioni di euro eh ma dovrà avere una sua coerenza interna e questa è una raccomandazione che ripeto per l'ennesima volta che non solo per quanto ha detto per l'appunto il sindaco lo russo ma proprio perché è un raccomandazione e una precisazione che nelle interlocuzioni con il ministero dell'interno sono emerse in modo eh più eh rilevante e da questo è nata nasce la sollecitazione proprio del sindaco e anche la mia di prestare attenzione a questo aspetto come dicevamo come diceva per esempio il sindaco lo russo la articolazione delle linee di finanziamento la eh è per la città di Torino che ammonta 113 milioni 395 mila 160 euro e 120 milioni 552 mila 757 per quanto riguarda tutti gli altri 311 comuni della città metropolitana ovviamente eh ogni rimane sempre fermo il vincolo che ogni progetto di rigenerazione urbana deve avere un importo minimo di 50 milioni di euro come per scritto chiaramente dal eh dall'articolo ventuno del decreto legge e eh al di non possiamo andare al di fuori di questo parametro eh non mi soffermerei più di tanto su quello che sono gli eh il contenuto discrittivo degli interventi materiali che sono declinati chiaramente in progetti di manutenzione per il riuso la rifunzionalizzazione degli ecosostenibili di aree pubbliche o aree strutture pubbliche e private esistenti eh il decoro urbano il tessuto sociale economico ambientale e eh anche per il rilancio e questo è una delle modifiche apportate per l'appunto dal dalla legge di conversione per il rilancio dello sviluppo e il potenziamento dei servizi sociali culturali la promozione di attività economiche culturali e sportive oltre ai temi della smart city e alla riviterizzazione delle attività economiche trasporti e consumo energetico eh un aspetto su cui viceversa è utile mh soffermarsi è quel il tema a cui si faceva riferimento delle WSM eh il tema delle WSM va eh detto che il decreto prescrive come requisito primario di ammissibilità che la proposta di progetto di rigenerazione urbana quindi facciamo riferimento al progetto da cinquanta milioni di euro minimo eh può essere proposto dal comune singolo che abbia un WSM superiore a novantanove per il territorio della sola città di Torino l'IWSM superiore a novantotto e diece che sarebbe l'indice di vulnerabilità della città di Torino che tuttavia potrà essere declinato in una mediana tra le aree suburbane perché la città di Torino a differenza degli altri comuni è l'unica eh ente che è suddiviso in aree suburbane a cui è stato attribuito dall'Istat un indice differenziato e quindi nel caso in cui il progetto intervenga su aree suburbane eh puntuali chiaramente si andrà a fare il calcolo della mediana questo viene precisato dal Ministero dell'Interno nelle proprie FAC viceversa per tutti gli altri comuni salvo non abbiano la capacità di presentare il comune singolo un progetto da cinquanta milioni di euro eh e quindi eh con un indice superiore a novantanove qualora più comuni presentino un progetto di rigenerazione urbana si andrà a fare il calcolo della mediana e dovrà l'Ivsm mediano essere superiore alla mediana dell'area metropolitana che è stato calcolato nella misura del novantasette virgola sessantuno nel disciplinare avrete visto che viene precisato come si calcola la mediana questo per ehm soggette persone come anche il sottoscritto devo dire che non è che sono dei raffinati matematici evidentemente e quindi sostanzialmente è eh messi insieme più comuni nel caso in cui il il numero di comuni è dispari si prende il eh l'indice del comune che è in mezzo praticamente nel caso in cui i comuni sono pari si fa praticamente la media tra il il quello che è il in mezzo più uno e si fa la media tra questi due valori dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale dei comuni individuati in pratica se sono quattro si prende il secondo e il terzo e si fa la media tra gli indici di vulnerabilità del secondo comune del terzo comune passiamo al tema del livello progettuale degli interventi che è molto eh importante perché quella è una delle modifiche apportate con la legge di conversione si richiede prima si richiedeva genericamente il progetto preliminare mentre successivamente in sede di conversione il eh livello progettuale prescritto il progetto di fattibilità tecnico economica anche noi siamo so consapevoli che evidentemente è stata un modifica particolarmente gravosa perché evidentemente il progetto preliminare lasciava spazio a la possibilità da parte nostra di richiedere documenti eh tecnici o eh documenti espositivi circa il progetto liberamente individuati viceversa il progetto di fattibilità tecnico economica è un documento i cui contenuti sono prescritti sostanzialmente dall'articolo ventitré del cinquanta del duemila e sedici e quindi da quello eh non si scappa evidentemente quindi gli interventi materiali gli interventi materiali dovranno essere corredati dal progetto di fattibilità tecnico economica colgo a questo punto e qua non c'è nelle ride però è utile che vi dica eh viceversa in questa sede viceversa cosa viene richiesto per gli interventi eh immateriali allora abbiamo detto che gli interventi materiali sono quegli interventi che attengono sostanzialmente al mh all'idea di realizzare servizi nel campo sociale oppure attività co in coprogettazione con il terzo settore oppure start up eh come chiarito dalle fac del ministero ehm in primis questi interventi ripetiamolo eh non possono avere un importo superiore al dieci per cento del progetto complessivo e poi devono essere correghe date chiaramente in questo caso sono servizi oppure attività in coprogettazione oppure progetti di start up e in quindi non c'è una progettazione ascrivibile all'articolo ventitré e quindi in questo caso il ministero chiede che sia corredato da un impegno a garantire la continuità del servizio l'attività economica nei dieci anni successivi rispetto all'inizio del servizio dell'attività un piano di sostenibilità economico finanziaria del servizio eh e poi una rendicontazione dei costi sostenuti a valere sul contributo erogato in modo che si abbia un quadro chiaro di che cosa si intende fare cioè in sostanza va elaborato un progetto della coprogettazione che si intende realizzare o del servizio che si intende attivare con questi elementi l'impegno al mantenimento del servizio nei successivi dieci anni un business plan a corredo del progetto di servizio o dell'attività in coprogettazione e successivamente dovranno essere rendicontati i costi a valere sul eh PNRR non è necessario e qua mi preme sottolinearlo che sia già individuato il contraente eh o il l'ordine del soggetto del terzo settore con cui si intende realizzare la coprogettazione è necessario e viceversa che il rappresentante legale del soggetto attuatore dell'intervento immateriale produca quello che è il progetto del servizio produca il quadro economico il business plan eh e si impegni al mantenimento nei successivi dieci anni dall'attivazione e assuma poi l'obbligo chiaramente della rendicontazione assumendo evidentemente e esponendo anche l'azione materie qual è la modalità attraverso cui procederà l'individuazione del contraente quindi a seconda eh che si tratti di servizio farà richiamerà la disciplina del codice dei contratti del 50 del 2016 qualora dovesse essere una coprogettazione eh richiamerà gli articoli 55 seguenti del 117 del 2017 ehm va detto quindi che è necessario soltanto l'impegno ma non l'individuazione va mi colgo anche l'occasione per evidenziare che sia per gli interventi immateriali sia per gli interventi materiali eh è essenziale e qua sarà eh un elemento sia dei singoli interventi ma anche del quadro complessivo del progetto di rigenerazione urbana il cronoprogramma il cronoprogramma che dovrà descrivere puntualmente chiaramente i diversi step degli interventi cioè noi nel cronoprogramma dovremo indicare in modo puntuale e chiaro con il limite del duemila del marzo del duemila ventisei le diverse fasi di progettazione perché partendo dalla salvo non ci siano enti che abbiano già progettazioni definitivi diciamo che partiamo dal progetto di fattibilità tecnico economica dovranno dire quali sono i tempi del progetto dell'approvazione per il progetto definitivo quali sono i tempi dell'esecutivo i tempi di individuazione del contraente al netto di dei delle semplificazioni in tema eh di procedure di gara eh i tempi di esecuzione dell'opera perché mi preme evidenziare questo aspetto mi preme evidenziarlo per rammentarvi che questa disposizione dell'articolo 21 va inquadrata nell'ambito di quello che sono complessivamente i procedimenti disciplinati per il PNR prego scusami se stai facendo riferimento a slide che però non si vedono no sto andando a braccio per chiarire un aspetto vuoi condividerle o perché comunque le slide le mettiamo nella nella sezione del sito di internet e quindi saranno a disposizione di tutti eh sì dopo le condivido dopo le condivido perché perché qua volevo richiamare eh la disciplina del eh decreto legge settantasette del duemilaventuno che contempla espressamente la possibilità da parte della presidenza del consiglio di eh intervenire laddove anche nelle fasi intermedie del cronoprogramma non vengono rispettati gli step cioè le diverse fasi che il soggetto attuatore ha indicato eh come eh scadenze e adempimenti quindi significa che la riflessione sul cronoprogramma deve essere fatta in modo ponderato perché evidentemente la presidenza del consiglio nel sistema che non è disciplinato nel 152 del 2021 ma nel DL 77 sempre del 2021 che è il DL che disciplina compressivamente le attività del PNRR ha la facoltà di sostituirsi al soggetto attuatore se non rispetta il cronoprogramma questo è un inciso Filippo che chiaramente non c'è nelle slide perché ahimè ho la brutta abitudine di parlare a braccio e però evidentemente magari le integriamo eh e le rendere quando renderemo pubbliche le slide integriamo sul punto questo aspetto e richiamo il decreto nella slide da pagina 10 nel pagina 10 delle slide poi gli altri tre elementi che sono tenuti in considerazione sono l'incremento di due classi energetiche l'equilibrio tra zone edificate e zone verdi la partecipazione degli attori economici e della società civile sui primi due aspetti incremento delle due classi energetiche l'equilibrio tra zone edificate e zone verdi eh come poi vedrete viene richiesto espressamente che nel progetto di rigenerazione urbana venga dimostrato e poi nei singoli interventi venga dimostrato quello che è il target obiettivo di questo equilibrio tra zone edificate e zone verdi e poi per i singoli interventi il superamento delle due classi energetiche questo aspetto è strettamente collegato a quello che vedete nella slide da pagina 11 cioè il tema è la valutazione di conformità al principio di non danno significativo all'ambiente che è disciplinato l'articolo 17 per l'appunto del regolamento UE al riguardo vi forniremo quello che è una scheda da compilare e da allegare al progetto di rigenerazione urbana oltre che ai singoli interventi che eh sostanzialmente è una specie di checklist ehm descrittiva circa quelli che sono gli aspetti del regolamento e che dimostrano che l'intervento non ha un danno significativo all'ambiente bisogna in particolare leggendo per l'appunto la scheda eh della eh unione che verrà messa a disposizione di tutti gli enti deve essere dimostrato sostanzialmente che anche gli interventi per esempio interventi di investimento eh la realizzazione di un edificio o le la realizzazione sì di un'opera pubblica comunque eh non eh produca un impatto significativo sull'ambiente sia in termini di eh valore di ciclo di vita dei beni quindi magari sono preferiti quegli interventi che contemplano magari la il riutilizzo di materiali eh già esistenti o materiali riciclati questo è scritto proprio nella checklist che abbiamo metteremo a disposizione oppure soprattutto per esempio il tema del eh rispetto delle due classi energetiche eh prescritto espressamente dal 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 decreto eh è correlato poi nella checklist per esempio nel un giudizio non positivo eh se non negativo nel l'utilizzare eh impianti particolarmente eh eh importanti di produzione di energia di riscaldamento attraverso con il gas quindi si preferiscono eh che chiaramente edifici che utilizzino energie rinnovabili perché chiaramente questo riduce quello che è l'impatto sul sull'ambiente e in ultima e non da ultimo infine il tema dell'equilibrio tra zone verdi e zone edificate a riguardo eh va detto che deve essere dimostrato un equilibrio il che significa che tra le zone edificate e le zone verdi a cui noi facciamo riferimento nel perimetro che è oggetto di intervento di progetto di rigenerazione urbana deve essere chiarito quello che è il eh quanta parte viene edificata e quindi il tema del consumo del suolo infatti ecco perché nelle nelle premesse della disciplinare è richiamato il concetto e soprattutto è escluso o tendenzialmente deve essere espressamente autorizzato dal ministero interventi che contemplino nuove urbanizzazioni quindi in sostanza il il tema è che le nuove urbanizzazioni quindi terreni vergini eh che devono dovessero essere eh oggetto di intervento sono sfavoriti perché devono essere eh autonomamente autorizzati perché diventa una nuova urbanizzazione un maggior consumo del suolo rispetto ad ipotesi per esempio di ristrutturazione quindi la demolizione ricostruzione o il riferimento di zone già urbanizzate eh l'intervento in zone già urbanizzate eh è ammesso e preferibile rispetto a quello che è l'urbanizzazione di una zona totalmente vergine magari a destinazione sia a servizi ma del tutto permeabile a e a e verde il potenziamento dell'autonomia delle persone con disabilità e l'inclusione sociale è un altro tema eh e poi la previsione della quantificazione del target obiettivo è quasi dell'interessata dell'intervento qui è chiaramente il target obiettivo è la dimostrazione che quel compresso n interventi materiali o di materiali contenuti nel progetto omogeneo di rigenerazione urbana perseguono il obiettivo e qual è l'ambito dimensionale del dell'intervento a riguardo il richiamando quello che dicevamo prima in merito al concetto di omogeneità e organicità del del progetto nel disciplinare viene chiarito quello che è il concetto di progetto di rigenerazione urbana cioè la regola è che eh il progetto di rigenerazione urbana riguarda un insieme di interventi che riguardano una specifica area urbana oppure che degli interventi che risultano magari funzionalmente o strategicamente unitari e se non territorialmente contigui o progetti a rete sulla base di strategie tematiche su scala metropolitana questo significa che in sostanza il progetto di rigenerazione urbana ha come regola generale che eh il fatto che riguardi un'area urbana che magari in veste più comune anche ma che sia uno un agglomerato senza soluzioni di continuità tra le diverse aere urbane oppure è ammissibile pure il concorso di più enti che magari non siano eh perfettamente contigui ma si inquadra in un progetto generale omogeneo che evidentemente consente di dire si ha una sua logica e i diversi interventi sono l'uno rispetto all'altro complementari il nel disciplinare che riprende le fac viene anche ammesso l'idea dei progetti a rete però qua stiamo parlando evidentemente di progetti di area metropolitana magari che contemplano la realizzazione veramente di progetti magari di per servizi e quindi le infrastrutture per servizi a rete che sono quelli che eh sostanzialmente eh attengono magari i trasporti o quant'altro quindi poco diventano poco eh coerenti con quello che è viceversa la eh la missione eh che è la rigenerazione urbana cioè progetti a rete di rigenerazione urbana si potrebbero essere elaborati ma eh diventa molto più complesso la dimostrazione magari se i comuni non hanno quella omogeneità anche territoriale se non contiguità territoriale che il la missione richiede e persegue i cup che è un altro elemento che viene prescritto dal decreto e viene precisato ulteriormente dal decreto ministeriale eh e che noi richiamiamo sia nel decreto del sindaco sia nel disciplinare eh in quanto il ministero precisa che tutti gli interventi devono essere corredati da un cup quindi da un codice unico progetto in questo già in sede di presentazione dell'intervento come progetto eh di fattibilità tecnico eh economica e eh questi cup il ministero dell'interno li ha eh puntualmente individuati eh in particolare il ministero precisa che il i cup devono rientrare in specifiche categorie che ora recupero eccoli qui in specifiche categorie che sono sostanzialmente il settore delle infrastrutture sociali sociali e scolastiche oppure abitative oppure beni culturali oppure sport e spettacolo tempo libero e altre infrastrutture sociali settore infrastrutture ambientali risorse idriche protezione e valorizzazione e fruizione ambientale riassetto e recupero distruttivi oppure l'ulteriore eh classificazione ammessa è quella delle infrastrutture di trasporto trasporto urbano trasporti multimodali e quant'altro eh mi preme precisare sul tema del cup che il cup è un codice unico progetto che identifica in base alla disciplina anche unitaria e soprattutto ehm serve a monitorare a fini di finanza pubblica quelli che sono i singoli investimenti quindi nel rispondere ad alcune sollecitazioni che alcuni giorni fa pervenivano cioè rispetto al vincolo dei 5 milioni di euro per il quale noi abbiamo prescritto nel decreto ogni intervento materiale o immateriale deve avere un importo almeno di 5 milioni di euro e deve essere ovviamente corretato dal cup il cup identifica un investimento quindi qualora il progetto quindi l'elaborato tecnico eh contempli interventi cioè investimenti in due comuni distinti e ma la progettazione è unica non si può attribuire un unico unico cup ad eh investimenti del tuo oggettivamente diversi che sono oggettivamente diversi perché realizzati in territori diversi in comuni diversi e hanno per oggetto ehm ehm infrastrutture diverse quindi il cup identifica un investimento che attiene ad un determinato ehm opera infrastrutturale che sia eh che sia eh un edificio pubblico che sia la riqualificazione delle opere di urbanizzazione identifica quell'investimento quindi non possiamo evidentemente inserire nel medesimo cup eh progetti che attengono ad edificio infrastrutture oggettivamente diverse questa raccomandazione ehm la faccio perché al di là del giudizio che possiamo dare noi come città metropolitana in sede di individuazione il la valutazione circa la il rispetto di questa prescrizione che ripeto è contenuta nel decreto ministeriale del 6 dicembre sarà oggetto anche di valutazione da parte del ministero perché anche il comma 9 dell'articolo 21 del 2021 ehm prescrive per l'appunto che il ministero eh acquisisce il progetto di rigenerazione urbana e gli interventi corredati dai singoli cup quindi andrà a controllare evidentemente il cup che identifica l'intervento quindi su questo la raccomandazione per l'appunto di evitare di inserire nel medesimo elaborato progettuale interventi oggettivamente diversi identificandoli con un medesimo cup perché non ha alcun fondamento o ehm o logica eh l'ultimo eh accenno circa eh il i requisiti lo farei sul tema che magari qualcuno potrebbe eh contemplare i suoi progetti di rigenerazione urbana circa la possibilità dell'acquisto di beni immobili l'abbiamo anche messo nel disciplinare questa possibilità perché è contemplata e ammessa dal dalla misura ed è ammessa dalle che dai chiarimenti del ministero nei termini indicati dal disciplinare anche nel caso di acquisto di beni immobili è necessario il rispetto del limite del vincolo del 10% rispetto all'importo complessivo del progetto di di rigenerazione urbana quindi diciamo rispetto al al limite minimo dei 50 milioni di euro e il ministero precisa eh nel come poi noi abbiamo riportato ripeto nel disciplinare precisa che l'acquisto eventuale di eh progetti eh l'acquisto eventuale di immobili deve essere corredato da una perizia giurata di parte atta a eh valutare eh la concluità sostanzialmente del eh dell'acquisto eh il la natura dell'immobile precisare che l'immobile non eh sia diciamo un immobile abusivo quindi dovrà essere corredato da un certificato del comune competente al riguardo eh e poi chiarire le finalità dell'acquisto quindi anche l'acquisto di un bene immobile deve essere eh coerente e finalizzato a quelle che sono i target del progetto di rigenerazione urbana e quindi a sua volta del misura della misura. Un po' c'è no eh che è l'articolazione dei progetti che verranno presentati nel l'acquisto del progetto di rigenerazione urbana eh coerentemente con quanto già si diceva è possibile anche contemplare azioni eh tutti quanti non sentiamo più ci sono problemi mi senti? Non si è sentito più. Adesso sì. Allora no perché mi sono la cuffia ma eh dicevo che eh tutti avranno letto la intempestiva circolare del ministero del MEF del diciotto uno del duemilaventidue che eh chiarisce quali sono i termini sostanzialmente quali sono le spese di assunzioni a tempo determinato eh ammesse a carico del finanziamento PNRR ai sensi dell'articolo uno del decreto legge ottanta del duemilaventuno. Ahimè eh contro quelle che erano sostanzialmente le aspettative di molti che eh auspicavano la possibilità di un rafforzamento delle strutture amministrative eh interne benché attraverso assunzione a tempo determinato la circolare del MEF circoscrive eh fortemente quelli che sono la categoria di eh assunzioni eh ammissibili e che possono sostanzialmente essere circoscritte a quelle che sono proprio le attività tecniche eh della progettazione o dei servizi di direzione lavori di eh servizi di architettura o di ingegneria collaudo o incarichi per oppure assunzioni per le indagini geologiche o quant'altro. Quindi sostanzialmente hm non assunzioni proprio di soggetti di amministrativi per così dire o di tecnici che aiutino magari al eh all'esperimento di quello che è il procedimento interno per la gestione dell'investimento. Questo perché il MEF spiega che a differenza del della disciplina che eh è a me è prevista dall'articolo sei paragrafo due del regolamento web due quattro uno del duemilaventuno le misure del recovery eh non contemplano con l'applicazione di quella disciplina che viceversa sembrerebbe anche ammettere per l'appunto eh la categoria cosiddetta dell'assistenza tecnica che potrebbe viceversa eh ricomprendere attività tra virgolette di natura amministrativa utili magari al funzionamento dell'apparato che indubbiamente dovendo gestire dovendo gestire un investimento da dieci o barra da cinquanta milioni di euro meriterebbe o mh quello che è un rafforzamento. Io avrei finito soprattutto perché per dare spazio anche al al spiegazione circa le diverse fasi del procedimento di individuazione che eh sono declinate nel disciplinare. Filippo prego sì ok grazie adesso eh presentiamo qualche slide sono davvero poche due o tre eh così condividiamo anche eh il processo per la presentazione dei progetti. ok allora ehm teniamo fermo questo schema che eh è il più rappresentativo di tutti. Allora qui è eh il cronoprogramma e le scadenze che ci siamo dati per arrivare alla data del 16 marzo. Quindi eh un primo step eh importante è quello del 26 gennaio. Quindi alla mezzanotte del 23.59 per l'esattezza abbiamo scritto il 26 gennaio. C'è la scadenza per la presentazione delle proposte sintetiche di progetto poi vediamo cosa sono e ehm vi spieghiamo anche cosa 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 chiediamo. Dopodiché si avvia la fase chiamata fase B che è il confronto tra i comuni sulle ehm proposte sintetiche che sono presentate. Quella fase qui faceva riferimento prima al sindaco che è una fase diciamo di ordine tecnico ma anche di ordine politico perché ehm insomma bisognerà cercare di comporre diversi progetti. Il 22 febbraio è la data che abbiamo invece indicato per ehm presentare ufficialmente i progetti quindi dopo la fase di confronto. Dopodiché entrerà in ehm entrerà in gioco una commissione l'abbiamo chiamata commissione tecnica che da un lato dovrà verificare l'ammissibilità dei progetti e dall'altro fare anche una valutazione di merito dei progetti poi dopo vi faccio vedere anche i criteri. Tutto per arrivare ovvio che anche in questa fase nella fase D c'è un'interlocuzione coi comuni. Il tutto per arrivare nella fase eh nell'ultima fase cioè al 16 marzo per arrivare all'approvazione dei progetti anche qui con decreto del sindaco e inviarli al ministero. Allora ehm cominciamo con la prima scadenza che eh che è quella più ravvicinata sulla ehm presentazione delle proposte sintetiche di progetto ehm oggi nel sito mettiamo una scheda nella quale sono già indicate le informazioni che servono in questa prima fase. Sono poche ovviamente non chiediamo di allegare alcun progetto perché mi dire sarebbe sarebbe ovviamente impossibile dati i tempi però eh insomma si sono già delle informazioni importanti che poi ci servono nella fase successiva. Ehm come vedete ehm su questi obiettivi di progetto è necessario lo scopo è quello di avere una panoramica del progetto complessivo hm e poi nella fase successiva cercheremo di vedere gli elementi di inammissibilità quindi se ci sono intervenire subito e provare a capire come eliminarli così come l'individuazione di eventuali criticità di progetto o magari di miglioramento. Ehm inoltre in questa fase qua tenendo a mente soprattutto gli interventi che saranno presentati eh proveremo a capire se è possibile individuare possibili sinergie con con altri progetti o con altri interventi con altre proposte. Quindi sostanzialmente eh questa sarà la fase eh la 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 fase che avremo già dalla settimana prossima. Ehm in questa proposta sintetica chiederemo soprattutto l'idea del progetto cioè capire che cosa si è in mente capire se ad esempio ci sono già delle progettualità in corso o se avete già dei progetti che questo è importante capirlo. Chiederemo l'elenco degli interventi se ci sono già che cosa si è in mente nel progetto integrato. Eh chiederemo di esplicitare quali sono i risultati attesi no? Gli obiettivi anche che ci si pone con l'intervento e una prima definizione del budget perché ovviamente questo ci serve per fare dei ragionamenti complessivi. ehm nella fase invece di confronto eh eh con che poi faremo con 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 tutti voi che avete presentato interventi o progetti per quella successiva che si chiuderà il 22 febbraio. Il 22 febbraio invece ci saranno delle vere e proprie domande di ammissione. Su questo stiamo lavorando su un link e creiamo un ambiente specifico affinché i soggetti proponenti possano entrare e depositare tutta la corposa questa sì documentazione che viene richiesta per presentare i progetti al Ministero. Ehm giusto per elencarvi non spaventatevi ma se voi scorrete il disciplinare dentro troverete un bel po' di punti che sono quelli che eh ci vengono richiesti dal Ministero. Oltre alla domanda di ammissione eh firmata da rappresentante legale soggetto attuatore o soggetto attuatori viene richiesta una relazione illustrativa hm di alcune pagine, sette pagine si tratta di un progetto ehm all'interno della quale bisogna chiarire quali sono le finalità del progetto e benefici attesi hm cioè l'oggetto poi è il miglioramento della rubane degradati quindi in tutte le varie declinazioni. Bisogna già legare parlo del 22 febbraio eh però bisogna già legare uno stilio di prefattibilità ambientale secondo i principi eh cosiddetti del DNSH hm una quantificazione del target obiettivo sui metri quali dell'area interessata dimostrare già l'equilibrio tra zone edificate e zone verdi ehm la dimostrazione nel caso di utilizzo di edifici eh di eh incremento di almeno due classi energetiche una dichiarazione in merito al rispetto del requisito di ammissibilità dell'USM la mediana l'area territoriale e così via un quadro economico hm quindi almeno pari o superiore a 50 milioni se parliamo di un progetto integrato con importo minimi di intervento di 5 milioni e il cronoprogramma eh del progetto. Tutto questo che vi sto raccontando è è presente nel disciplinare hm che contiene anche tutto ciò che invece viene chiesto anche per gli interventi hm che più o meno sono le stesse cose in forma un po' semplificata ma neanche troppo. Ehm dopodiché ehm eh dopo la eh presentazione dei progetti quindi dal 23 febbraio in avanti ci sarà la fase di verifica di ammissibilità dei progetti che sono presentati. Evidentemente la commissione verificherà la ricorrenza di tutti i requisiti obbligatori che vi ho elencato hm e quindi eh tutto quello di cui abbiamo parlato fino adesso e poi ci sarà anche una valutazione qui vi ho messo i criteri in merito eh eh una valutazione di merito sui progetti che sono stati presentati e anche in questa fase potrebbe esserci potrà esserci anzi sicuramente ci sarà un confronto con i comuni che hanno presentato i progetti. Si tratta eh evidentemente di una ehm di di una serie di criteri di preferenza che sono stati individuati anche questi ritrovate all'interno del disciplinare che parla di poerenza e pertinenza quindi poerenza della proposta con le finalità e dei risultati dell'ammissione della ehm M5C2 che come oggetto ha le aree urbane degradate quindi evidentemente il focus dovrà essere su questo aspetto. Coerenza tra azioni da intraprendere e obiettivi esposti in questo modo si andranno anche a valutare altri aspetti di carattere sociale, di carattere economico, di carattere ambientale hm questo per capire se il progetto se e come aumenta la qualità della vita. Ci sarà anche una valutazione di pertinenza che eh evidentemente atterrà ai criteri di omogeneità quindi omogeneità territoriale da un lato, far attenzione anche al fatto che l'area sia la più uniforme possibile oppure omogeneità funzionale nel caso in cui siano previsti degli interventi a rete su modelli su modelli diciamo eh di rete quindi su su idee di progetto su idee progettuali. Ehm esiste poi un livello di apprezzamento rispetto agli obiettivi e target ambientali che sono il rapporto tra diciamo il verde e l'area edificate, la biodiversità del suolo, il verde urbano e anche un livello di apprezzamento rispetto agli obiettivi e target socio economici in modo particolare come vi ho detto prima quelli relativi al miglioramento della qualità della vita. Ultimo criterio infine la coerenza col piano strategico metropolitano e con la programmazione di riqualificazione dei poli scolastici che è un documento che anche quello metteremo ehm se non abbiamo già messo nella pagina dedicata eh del del dei piani urbani integrati. Allora ehm ho visto che ci sono già una serie di domande eh che sono state sono state presentate in chat le abbiamo più o di arle a questa mail la stiamo attivando adesso quindi questa è la mail cui fare riferimento se avete questioni dubbi da chiarire. Ehm io a questo punto eh se non ci sono come dire ulteriori interventi direi che chiudiamo qua ehm aspettiamo quindi di eh eh ricevere eventuali vostre domande ehm ehm volevo dirvi che tutta la documentazione compreso anche il documento relativo alle proposte sintetiche finiamo di elaborarlo ma nel giro di breve eh eh e mettiamo anche il documento nell'area dedicata del sito internet. Ok? Quindi dovesse trovare tutti questi documenti già nel pomeriggio. Va bene. Io eh vi ringrazio. Questa sarà evidentemente stata la prima il primo incontro ma avremo la possibilità di interloquire anche successivamente credo anche in maniera molto intensa almeno con alcuni di voi. Io eh eh ringrazio eh tutti e tutti per l'attenzione e insomma ci 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 Grazie a tutti